Oggi ho il piacere di presentarvi Sergio Covelli, ben arrivato, uno scrittore per me che è presente, che ci presenta un libro che si chiama Zero Resto, pubblicato grazie ad Andrea. Io sono Sergio Covelli, sono lo scrittore di questo libro, sto cercando di venderlo, è interessato? No, non mi frega un cazzo, voglio leggere un so leggere. Scusa, io sono un giovane, spettore calabresi, calabresi si, pure tu, pure me, bello! Signore, scusi, no, non insiste perché sei cascata proprio male, guarda. Ti racconti, ti racconti, ti racconti, ti racconti, ti racconti, ti racconti, ti racconti. Non ho manco comprare un vestito. Ci racconti che cazzo, ero sempre sordi cercando. Un po' dell'amore tra una coccinella e un canguro, ambientato in Norvegia, è un romanzo, è bella comunque. Sarà interessante come te pare, ma io parlo solo, non leggo e non voglio sapere niente. Ciao, siamo Sergio Covelli. Salve, sono Sergio Covelli e sono venuto qua per vendere i miei libri. Io sono Sergio Covelli. Sono Sergio Covelli, compro il mio libretto. Ciao, sono Sergio Covelli, comprate i miei libri. Gero sto, gero. Tempo per sperare. Gero sto, gero. Gero sto, gero. Ma io al semaforo prima ho dato i soldi, hai robato i po'. No, no, 8 euro, è bellissimo. Abbassi sto vetro, se lo vuole prendere sto cazzo di libro. Oh, ti brucia la macchina. I libri al semafora chi li vendi. Oh, ti brucia la macchina, non hai capito. Ti brucia la macchina, ti brucia. Eh, zingari. Pure zingari, mo' leggo. Va bene, grazie. Se lo compro. Lo vuole prendere sto libro, lo vuole prendere questo libro, lo vuole prendere questo libro. Bastardina, cazzo, va, 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 va. Compri un libro? Che vuoi? Te lo compri un libro? Dove? Questo, adesso te lo compri, sì o no? Che me lo dici così? Sì, te lo compri o no? Ma guarda che male. Vaffanculo. No, ma hai scritto male, no? Ma se neanche leggi, che cazzo ne sai che hai scritto male? Come sei che sto gli a piego, eh? Ciao, scudati, eh? Bravo, sì, sì. Come sei. Come sai, come sei. Come sai. Ehi. Hey, come sai. Eita cazzo, papi e mamatori. Sono Sergio Cobelli. E questo è mi libro. Deoresto. Me cobrano solo 8€. Che lo compro a tutti. Ehi, è una miseria molto Ehi, è una miseria molto Ehi, è una miseria